che cosa posso dire su questo certo la gente si rivolge all'arte spesso quella gente per bene si rivolge all'arte spesso come ci si rivolge alla religione qualche cosa che ti diamo conforto mentre al massimo ti dà solo piacere il conforto non esiste già il conforto non esiste di per sé figurarsi il conforto dell'arte ce l'avrà a chi investe perché è contento che è investito bene ma diventa un'altra questione è così il roti laniera metterà tutti i suoi traumi conscia inconscia lo scoperto cioè ravviverà tutto il dolore di sé ma il dolore non è sempre una cosa nefasta ma è anche una cosa che apre il cervello e fa capire non ho risposto si si ho risposto